TuttoFood 2019, siamo allo stand di Yumi United, un'iniziativa italiana con delle partnership rilevanti, dedicata interamente ai consumatori del futuro e con la loro collaborazione, con il loro coinvolgimento. Ce lo spiega Andrei Vazakovic, che è il direttore commerciale di questa iniziativa. Benvenuto Andrei. Grazie. E allora spieghiamo a tutti loro in pochissimi minuti di cosa si tratta. Allora, la Yumi United è un'azienda, la prima azienda al mondo che in parte viene gestita dai bambini, cioè noi crediamo nella generazione di domani e vogliamo investire nella generazione di domani. Come lo facciamo? In pratica ogni tre mesi scegliamo un gruppo di bambini nella fascia d'età dai 8 ai 13 anni che lo nominiamo un consiglio amministrativo e lo facciamo partecipare in maniera molto attiva alle decisioni dell'azienda, come creare un nuovo etichetta, piuttosto che provare a creare un nuovo gusto oppure creare una campagna pubblicitaria. Con questo gioco, diciamo così, formativo, i bambini vanno a toccare quello che è il mondo di lavoro. Si divertono, tirano fuori la loro leadership, la loro creatività, si confrontano, imparano ad ascoltare gli altri e investiamo perché oggi sono i nostri consumatori, domani saranno i nostri partner ma saranno anche con loro che gestiranno la nostra azienda. Voi di dove siete? Questa iniziativa dove nasce? Allora, l'iniziativa nasce all'interno dell'azienda. Allora, la Yami United distribuzione, quindi quella che distribuisce si trova qui a Milano, azienda invece che produce si trova a Riga, che è Lituania. Perché? Vi trovate qui a TuttoFood 2019? Ci troviamo qui per presentare quello che è il nostro concept, quello che è la nostra idea di investire nel futuro di domani ma anche per presentare il nostro prodotto che vogliamo commercializzare in Italia, che si sa naturalmente, Italia per eccellenza si trova al top per tutto ciò che è il cibo. Se riusciamo a soddisfare il palato dell'italiano, riusciremo senz'altro a soddisfare il palato di qualsiasi altro bambino nel mondo. E dunque cosa ricercate? Una partnership? Cerchiamo delle partnership in quello che è il nostro progetto di coinvolgere i bambini. Cerchiamo anche delle partnership per la distribuzione. E dunque solo Orica, quindi fuori casa o anche distribuzione automatica? Assolutamente sì, anche distribuzione automatica, senz'altro è un prodotto che si adatta benissimo alle macchinette vending, senz'altro. E allora Andrei, diamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica al quale poter scrivere senza alcun impegno per richiedere informazioni e chissà, magari iniziare una partnership di tipo commerciale o professionale con voi senza alcun impegno. Assolutamente sì, la mail è maelchiocciola.jami-united.com Andrei, grazie per la collaborazione. Approfitto per accettare il tuo invito che hai fatto poco prima dell'intervista per assaggiare uno dei vostri prodotti che sono particolarmente graditi dai bambini che si trovano in questo momento qui nell'altra parte dello stand. Ciao Andrei. Grazie mille. Grazie mille.